Andiamo Questo è meglio Non ne stai un lato Andiamo 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 Lorenzo vedi tu anche il lato Il lato Buongiorno Perché ti faccio E allora Non lo è Che vuoi? Voi 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 Vai Lorenzo Vediamo 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 È È È Penso Benso e continuo a filmare presto che è tardi ma non viene noi andiamo e di qua al solito la condensa qua è rimasto uguale è di un casino è un gran casino può diventare la mia zona devo svuotarlo metterlo di là alza la tua sicurezza non lo so va a capire un'altra parete il tiro sulla parete il tiro sulla parete la faccio dell'altra guarda i carici no grazie a tutti però vorrei e non con il trapoggio oma dove vede da da pire stic